www.feyyaz.tv è aperto Sandezzi oh capisco voi credevate di trovare qualche pazzo qua dentro ma che caccia dai e mamma voi ogni tanto viene qualcuno che vuole fare un film sull'opg tutti possiamo uscire per qualcosa che però non sappiamo che cos'è la vita vera sta qua è la testa è la testa questa è la vita è la testa quasi tu ma tuo fratello non doveva andarla a prendere non 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 non